Ciao a tutti! Oggi con Zampe Amiche parleremo delle migliori 5 attività all'aperto per i vostri cani attivi ed energici. Prendete nota e vediamo se il vostro amico a 4 zampe può beneficiare di queste fantastiche attività. Iniziamo con l'escursionismo. È un'ottima attività per cani di tutte le taglie. Molti cani amano esplorare nuovi ambienti e profumi. Assicuratevi di portare con voi acqua e snack per il vostro cane per mantenerlo idratato e pieno di energia. La seconda attività è il nuoto. Alcuni cani amano l'acqua, altri no. Ma se il vostro cane ama l'acqua, nuotare può essere un'ottima attività. È un esercizio a basso impatto che può essere molto benefico per le articolazioni del vostro cane. La terza attività è il frisbee. Questa è un'attività divertente e impegnativa che può essere fatta in un parco o in un campo aperto. Il vostro cane avrà bisogno di imparare a saltare e prendere il frisbee. Quindi è un'ottima attività per la formazione e il legame. La quarta attività è l'agility. Questo è un fantastico sport per cani che richiede velocità, coordinazione e obbedienza. Il vostro cane avrà bisogno di correre attraverso un percorso di ostacoli, quindi è un'ottima attività per mantenere il vostro cane fisicamente e mentalmente stimolato. Infine, la quinta attività è il tiro alla fune. Questa è un'attività semplice ma efficace che può essere fatta in casa o all'aperto. È un ottimo modo per sviluppare la forza e l'endurance del vostro cane. Ricordate, la cosa più importante è che sia voi che il vostro cane vi divertiate. Scegliete un'attività che entrambi amate e godetevi il tempo trascorso insieme. E non dimenticate di fare sempre delle pause e di idratarsi. Queste sono solo alcune delle attività all'aperto che potete fare con il vostro cane. Ce ne sono molte altre, quindi non abbiate paura di sperimentare e trovare quella giusta per il vostro cane. Ricordate, l'attività fisica è importante per il benessere del vostro cane, ma è altrettanto importante fare esercizio insieme e creare un legame forte. Quindi uscite e divertitevi con il vostro amico a quattro zampe. Che ne pensate di queste attività? Quali avete già provato? Quali vi piacerebbe provare in futuro? Fateci sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi a Zampe Amiche per più contenuti utili come questo. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video! Arrivederci!